Questa non sarà soltanto una presentazione, Simonetta mi chiesto di fare più un dialogo, quindi dialogando vorrei partire da questo. Noi abbiamo chiuso adesso un collegamento dall'Ucraina, abbiamo chiuso con Lorenzo Cremonesi che ha parlato dell'esigenza di una soluzione militare, ha detto alla fine, la soluzione militare per arrivare alla democrazia a volte è l'unico modo per poterlo fare, Lorenzo Cremonesi è un inviato di lunga esperienza, è uno che la guerra l'ha vissuta, l'ha raccontata, in Ucraina c'eravamo tutti, io ero con Lorenzo, da lì poi è nata la nostra amicizia, ovviamente siamo esseri umani e fortunatamente la democrazia ci permette di avere idee diverse, io ho un'idea diversa, un'idea diversa che però è nata, e ve lo dico, ricordandomi l'idea che io avevo una volta, io ho letto questo libro Una persona alla volta, Vigino Strada, l'ho letto venendo a Lecce in aereo perché purtroppo il tempo è limitato, poi in questo momento sto seguendo anche la campagna elettorale, e mi sono emozionata, mi sono commossa, perché mi sono a un certo punto ricordata di quanto manca nel dibattito pubblico italiano, quanto manca in questo momento una persona che non ci ricordi, che ci ricordi, scusate, sono stanca quindi ho un problema di coniugazione di verbi, che non bisogna essere dalla parte dei russi, degli ucraini, ma bisogna ricordarsi sempre di essere dalla parte della pace, e bisogna ricordarsi sempre che nelle guerre, qualsiasi essi siano, ci sono le vittime, ci sono le vittime, e ieri eravamo a un incontro insieme, è stato dato un dato dal giudice della Corte Internazionale dell'AIA, su dieci persone che muoiono oggi nei conflitti mondiali, un terzo del mondo è in guerra, nove sono civili, solo una persona su dieci è un soldato, e io partirei da questo, partirei con questo dialogo, e ti vorrei chiedere che cosa ci ricorderebbe in questo momento Gino Strada, Gino Strada c'è, è con noi, ha piantato un seme, il seme è diventato una pianta, l'albero è emergency, un albero grande che dà dei frutti importanti in varie parti del mondo, però che cosa, ti chiedo, ci potrebbe ricordare in questo momento, tu che gli sei stato accanto, che lo conosci? Buonasera a tutti, Gino ci ricorderebbe che la guerra non è mai la soluzione, ma è sempre il problema, perché quello che noi abbiamo visto nelle guerre degli ultimi vent'anni, e cito quelle degli ultimi vent'anni perché sono quelle a cui in buona parte ha partecipato anche l'Italia, indirettamente o direttamente, nessuna di queste guerre si è risolta, seguendo gli obiettivi che erano stati dichiarati. Quando si parla della guerra per la libertà, ad esempio, a me viene sempre in mente Enduring Freedom, che è stata la missione militare che è stata fatta in Afghanistan per portare la democrazia, per portare i diritti delle donne, per sconfiggere il terrorismo, quella guerra lì che è stata votata anche dal Parlamento italiano per il 92% dei parlamentari, perché sembrava in quel momento che chi non era a favore di questa guerra era a favore dei terroristi, un po' come adesso chi non è a favore di questa guerra è a favore di Putin, quella guerra lì si è conclusa dopo 20 anni con 241.000 morti, 5 milioni di profughi, 8,7 miliardi di euro spesi dall'Italia per una missione militare che doveva essere una missione di monitoraggio e formazione dei militari e con qualche scopo civile che è stato più o meno dichiarato, però oltre ai morti, oltre ai feriti, oltre ai profughi, nessuno degli obiettivi è stato raggiunto, cioè sono tornati i talebani che erano quelli che la coalizione internazionale era andata a cercare di sconfiggere, i diritti delle donne abbiamo visto quanto sono durati, tra l'altro anche durante il governo sostenuto la coalizione internazionale i diritti delle donne erano i diritti delle donne delle zone urbane di Kabul, perché poi l'Afghanistan ha un territorio molto rurale dove c'è una tradizione che prescinde dal fatto di essere talebani o non talebani e fa parte della loro cultura e della loro religione e il terrorismo non è stato sconfitto, è semplicemente emerso un altro gruppo quindi siamo sicuri che la guerra funziona, a vedere questi casi no quindi per riprendere il tuo discorso, Gino ci ricorderebbe che la guerra non è etica perché uccide le persone che dovrebbe e dichiara di voler liberare appunto 9 su 10 sono civili, 34% sono bambini non è etica e non funziona perché i casi degli ultimi anni sono tutti lì la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan, la Siria, lo Yemen si stanno incamminando a diventare dei conflitti paragonabili per durata e in più una cosa che diceva sempre Gino e io devo dire che lo pensavo come una cosa un po' teorica perché lui diceva non possiamo più permettercela perché adesso c'è il rischio nucleare e io dicevo sì, ovviamente è sul piatto da un punto di vista teorico e lui diceva no no perché una volta che tu sei nella situazione di poter disporre di un'arma poi alla fine c'è e potrebbe essere usata e quindi per me, ad esempio questa parola sul nucleare questa posizione sul nucleare di Gino per me è sempre stata una cosa che io pensavo appunto solo teorica perché talmente folle anche solo pensarci dopo che si erano visti gli effetti di Hiroshima che pensavo fosse un suo, come dire, il dipingere il panorama ma che questo elemento fosse appunto un rischio lontano e invece ci preoccupiamo adesso se è tattica se è un'arma tattica, se è un'arma strategica l'impatto che può avere e cose di questo genere tornando alla soluzione militare la soluzione militare cioè bisogna fare le valutazioni cioè quindi se poi viene usata l'arma tattica qual è la risposta? anche perché a furia di parlarne noi in Ucraina ce lo dicevamo sempre questo ce lo diciamo tuttora cioè se tu ne parli, ne parli in continuazione significa quasi che porti le persone a prendere in considerazione l'ipotesi che l'arma nucleare venga utilizzata anzi a volte anche un sistema cioè quasi per abituare la popolazione prima o poi ad usarla sì, c'era un'intervista credo dieci giorni fa di Kissinger su Corriere che mi ha molto colpito perché a parte che ha ribadito la necessità dei negoziati e voglio dire uno che di politica e anche di storia militare se ne intende molto ma lui diceva in questo modo lo sdoganamento dell'arma nucleare ci espone a qualsiasi cosa a qualsiasi uso da parte di qualsiasi paese perché poi noi vediamo sempre un pezzettino di mondo alla volta ma non vediamo quello che succede ad esempio forse in coincidenza con la prima minaccia nucleare erano partiti dai missili dalla Corea del Nord questo fatto che noi non riusciamo a vedere l'insieme non riusciamo a vedere quali sono le conseguenze di questo genere di scelte come può incidere appunto sullo sdoganamento dell'ultimo tabù perché poi alla fine l'area nucleare è l'unico tabù che è rimasto in guerra di fatto in Russia lo stanno già sdoganando quando nei talk show fanno vedere in quanti secondi la bomba atomica potrebbe spazzare via Londra, Roma, Berlino a me colpisce anche molto quando appunto si dice dobbiamo continuare sulla soluzione militare perché una volta che è arrivata cioè che viene usata l'arma atomica per quanto tattica comunque vado a colpire le persone che voglio difendere cioè se io ho così a cuore la popolazione per me la domanda è questa come posso aiutare gli ucraini non come posso destituire Putin come posso cambiare gli equilibri mondiali come posso originare il pericolo degli oligarchi o cose di questo genere e da come la sto vedendo io e per quello che io ho imparato in emergency non li difendo con le armi perché quando noi abbiamo iniziato a inviare le armi abbiamo iniziato a inviare dicendo che questo avrebbe contribuito a bloccare la guerra e però non c'è la possibilità di una vittoria militare e mi ricordo in Afghanistan subito dopo l'inizio della guerra i talebani avevano proposto agli americani un accordo di pace gli americani hanno rifiutato e hanno firmato dopo 20 anni un accordo di pace quindi anche lì non c'è stata una vittoria militare e se ci fosse stata sarebbe stata a favore dei talebani perché per 20 anni hanno sempre controllato porzioni di territorio sempre maggiori però in questo caso hanno fatto un accordo di pace che li ha legittimati è stato estremamente penalizzante nei confronti degli Stati Uniti che di fatto si sono accontentati del fatto che i talebani non avrebbero più sostenuti gruppi che avrebbero potuto ledere gli interessi degli Stati Uniti questo è stato l'accordo se ne sono andati lasciando un paese in fiamme i talebani non hanno dovuto neanche usare le armi per entrare a Kabul perché tanto il controllo del territorio ce l'avevano e quindi accordo di pace per accordo di pace forse si poteva fare prima 48 ore ricordo di fatto con quelle scene tremende all'aeroporto di Kabul c'è un dato molto interessante leggendo il libro che è una domanda che forse ci dovremmo porre tutti a un certo punto l'hai accennato anche tu noi abbiamo speso 8 miliardi e 7 l'America gli Stati Uniti d'America hanno speso cifre esorbitanti 8 mila? 2 mila? cioè e a un certo punto la domanda è questa ma se invece di spendere tutti questi soldi in armamenti noi avessimo investito sull'Afghanistan probabilmente l'avremmo reso la Svizzera ma con montagne ancora più belle ed effettivamente è così cioè noi rischiamo di fare quello che è successo in Afghanistan cioè 20 anni in cui solamente nella capitale o nelle città principali c'era un minimo di libertà per le donne rischiamo di fare come la Corea del Nord e la Corea del Sud quelle guerre infinite in cui si scontrano due potenze ma a morire sono i civili per poi un nulla di fatto perché la speranza a questo punto degli Stati Uniti d'America perché il punto focale è questo può vincere l'Ucraina la guerra? No può però essere destituito Putin perché non riesce a vincere la guerra in maniera netta forse sì questa è la teoria ma chi viene dopo? perché comunque adesso forse lui è il più colomba che c'è rischiamo la stessa situazione che è successa con Gheddafi cioè la Russia ha un popolo vasto è il territorio più grande quindi ci sono varie etnie che abitano tra di loro perciò la domanda è proprio questa che cosa succede dopo è questo quello che realmente vogliamo? non lo so questo non si sa e un'altra non si sa nel senso non si può il problema fondante è questo che noi non sappiamo in questo momento che cosa vogliamo perché ciò che più fa sorridere di tutta questa vicenda dal punto di vista italiano è questo nel 2003 due milioni di persone in Italia scesero in piazza per la pace noi oggi assistiamo ad una scena in cui i partiti politici litigano per quale sia la più giusta manifestazione della pace cioè ci sono due manifestazioni per la pace che litigano per quale sia la manifestazione più giusta e quindi è anche difficile da un certo che fanno adesso perché prima non l'hanno fatta che fanno adesso che sono minoranza in Parlamento questa cosa secondo me è molto indicativa del fatto che non hai l'idea non solo della pace come valore ma neanche l'idea di provare ad affermare la manifestazione ovviamente non ferma niente però il fatto di potersi dire che c'è un'alternativa c'è un modo di pensare diverso in questo paese c'è anche la necessità di trovarsi questa cosa qui la fai adesso e non l'hai fatta prima perché non so se ti ricordi prima non c'è stato nessun dibattito su non c'è stato nessun dibattito su questa guerra tantomeno sulle possibilità di fare una manifestazione neanche di solidarietà per il popolo ucraino ma perché cioè la domanda è che cosa abbiamo perso in questi anni perché non c'è più una mobilitazione perché siamo anestetizzati di fronte a immagini come quelle perché una volta scendevamo in piazza e adesso non scendiamo più in piazza per la pace qui a Lecce scenderete però ci sono chiaramente ci saranno persone che parteciperanno alle manifestazioni per la pace alcune saranno locali alcune scenderanno in piazza il 5 novembre ma perché nel 2003 eravamo due milioni di persone che scendevano in piazza per la pace io è questo che mi chiedo perché io avevo 15 anni e occupavo le scuole contro la guerra in Afghanistan cioè questo mi chiedo perché le scuole in questo momento non sono occupate contro l'invio di armi io non so io pongo questa domanda perché credo sia giusto porla perché comunque abbiamo la responsabilità dei valori delle nuove generazioni e quindi lo pongo a te che cosa abbiamo perso in questi anni ma io penso due cose e anche io me lo chiedo sempre la prima è il fatto di aver visto che appunto nel 2003 ci siamo illusi io mi ricordo New York Times titolava visto che tutte le città le più grandi cittadine del mondo erano piene di gente che manifestava contro la guerra New York Times titolava ecco la terza potenza mondiale e questa terza potenza non era una potenza perché infatti la guerra è stata fatta lo stesso e quindi credo che in parte ci sia un po' di scoraggiamento legato proprio al fatto di vedere che non si è incisivi e dall'altra io penso che soprattutto dal dopo Genova in poi è molto diminuita la partecipazione politica delle persone per cui nel momento in cui tu non ti senti incisivo non ti senti di poter fare qualcosa non ti senti ascoltato probabilmente rinunci in partenza è vero che questa manifestazione come tutte le manifestazioni è testimonianza perché negli ultimi anni le manifestazioni ce ne sono state poche però e di efficaci direi praticamente nessuna però serve anche questo cioè serve anche dirci che ci siamo e che non lasciamo niente di intentato proviamo a parlare dell'alternativa lo spazio di questo dibattito però non c'è stato cioè non c'è stata l'idea io non ho problemi a scontrarmi con persone di opinioni diverse perché poi alla fine se non si scontra su questi temi non so su che cos'altro però se c'è la voglia di capirsi cioè io lo capisco che una persona che sta in un paese in guerra e vede i morti vede le fosse comuni vede le persone che denunciano torture o maltrattamenti come quelli che sentiamo in televisione possa avere questa cosa io penso che però la domanda che noi ci dobbiamo fare noi che siamo fuori è come aiuto di più gli ucraini e io non penso che sia con le armi perché fino adesso non ha funzionato non ha funzionato né lì né altrove c'era Einstein che Gino cita nel libro che diceva serve pensare in un modo diverso serve un salto etico e io credo che questa cosa non ci sia stata cioè non ci sia stata non in questo conflitto ma non ci sia stata nello sviluppo dell'umanità noi continuiamo ad usare uno strumento primitivo e continuiamo ad usare uno strumento violento perché ci prepariamo all'uso di questo strumento perché compriamo le armi perché istruiamo gli eserciti perché la nostra politica è basata sulla possibilità di utilizzare la guerra ma non proviamo a fare a usare degli strumenti alternativi non proviamo a pensare a delle possibilità diverse che pure ci sono perché se no saremo in guerra costantemente eppure ci siamo dati degli strumenti diversi quando è finita la seconda guerra mondiale abbiamo costituito le Nazioni Unite perché abbiamo detto quella cosa lì non è più tollerabile al mondo poi abbiamo costituito le Nazioni Unite e le abbiamo abbandonate a se stesse perché siccome noi nel nostro mondo non avevamo più la guerra l'abbiamo tenuta fuori l'abbiamo fatta tutto intorno nel nostro giardino europeo non l'abbiamo più fatta non l'abbiamo fatta negli Stati Uniti non c'è mai stata e adesso che però c'è così vicino all'Europa abbiamo una abbiamo delle Nazioni che unite che non funzionano perché non abbiamo mai affrontato il tema dei paesi con il diritto di veto questo intendo dire abbiamo provato a darci delle soluzioni però non le abbiamo mai portate avanti non ce ne siamo mai occupate ci siamo detti che ci bastava non avere la guerra a casa nostra e solo che adesso appunto c'è poi ne parlavamo prima c'è anche quella dei Balcani ma non ce la ricordiamo più non se la ricordava nessuno non se la ricorda nonostante insomma ne parlavamo prima la situazione non sia propriamente delle più tranquille in questo momento nei Balcani anzi le cicatrici si vedono sempre perché poi non c'è solo la guerra che viene combattuta c'è anche quello che la guerra lascia lascia le ferite lascia la povertà lascia la fame lascia il dover ricostruire io capisco quello che dici tu sull'Ucraina cioè stando lì in quel paese ti viene da dire perché è chiaro cioè eravamo lì vedere dentro gli obitori le cataste dei bambini perché poi alla fine i militari non li vedi mai dentro gli obitori anche perché quando sei in guerra non te li fanno vedere perché vedere i militari e riuscire a capire quali militari siano morti di più dall'una all'altra parte significa capire la tendenza di come una guerra prosegue quindi se sono più morti i russi sono gli ucraini che avanzano se sono maggiormente invece soldati ucraini significa che i russi sono più potenti ci siamo innamorati in Ucraina di questa idea di resistenza del popolo che non si piega ma nessun popolo che di fatto viene invaso si piegherà mai perché abbiamo tutti visto i villaggi distrutti cioè la guerra è anche banale se volete è anche retorico a volte perché ti poni delle domande banali retoriche cioè ti poni la domanda è ma come fa un uomo a bombardare è a uccidere le persone perché è la cosa la prima cosa che ti chiedi cioè dici ma lui se ne renderà conto che sta uccidendo migliaia di esseri umani ma perché lo fai è una domanda stupida banale perché però rimane cioè perché lo fai non lo sai cioè io nel libro rileggiando i racconti vedendo anche e poi parliamo del grande impegno di Emergency perché insomma Emergency è strettamente legata alla guerra da una parte c'è chi quel bottone lo preme e manda le bombe ma sapete quante volte io ho sentito dire dai colleghi Putin è pazzo Hitler era pazzo Mussolini era pazzo no erano esseri umani che coscientemente avevano scelto il male ci sono poi esseri umani come Gino Strada come te che fondano quelle che lui racconta follie ma che follie non sono ma che scelgono il bene sono due esseri umani che hanno intenzioni grandi c'è chi fa del male estermi a popoli e chi invece decide di ripercorrere la strada inversa di fare del bene però se posso dirti due cose una su come fa l'essere umano Gino Citta a Orzin che è stato uno storico americano suo amico che è stato alla guida di un bombardiere durante la seconda guerra mondiale lui aveva bombardato Francia Olanda e qualche altro paese che adesso mi viene in mente non vorrei essere imprecisa e e lui dice pentendosi amaramente quando ho capito che cosa aveva contribuito a fare e poi ha speso il resto della sua vita a cercare invece di spiegare che cos'è la guerra ma la cosa che dice Zin è all'inizio della guerra tu dividi il mondo fra bene e male e ovviamente la tua parte è il bene e l'altra parte è il male questa scelta morale che tu fai all'inizio ti serve come copertura per tutte quelle successive cioè scegli una volta sola quando tu hai deciso che stai dalla tua parte la tua parte è il bene tutto il resto va in automatico è probabilmente un meccanismo di protezione per non doversi sempre interrogare su quello che si fa però non puoi dare la responsabilità del male alla follia è una scelta no ma quello lì ma figurati il problema è quello che tu dicevi prima la scelta è la parola chiave secondo me perché noi adesso chiamiamo Putin pazzo ma l'abbiamo chiamato statista l'abbiamo dal 2007 quando è stata uccisa la pulita oscaia l'abbiamo incontrato ai meeting internazionali ci abbiamo fatto affari qualcuno in Italia lo portava a riferimento di come un uomo del genere poteva risolvere i problemi di un continente o di un paese ed è questo il punto cioè tu le guerre se vuoi le puoi fermare prima il problema è che tu arrivi sull'orlo del precipizio e poi dici e quindi adesso che cosa si fa ma tu avevi già chiarissimo era uno che sopprimeva il dissenso facevoci dei giornalisti aveva penso al teatro di Mosca e altre cose la scuola di Beslan erano abbastanza chiare ci scordiamo che lui insomma la guerra in Cecenia nasce da dei finti attentati messi in piedi dallo stesso Putin esatto però questo non ci ha impedito di considerarlo un interlocutore e poi quando ti colpisce negli interessi vicini non puoi pensare non puoi dire che è un pazzo perché era chiarissimo il suo percorso prima e a me personalmente sembra che noi ci svegliamo sempre quando ci toccano il nostro o comunque l'Ucraina non è il nostro ma insomma è molto vicino e ha sicuramente delle implicazioni per noi ma penso a Erdogan Erdogan reprime il dissenso fa incarcerare i giornalisti invade uno stato bombarda uno stato vicino che è diventato poi l'interlocutore di questa guerra ed è diventato l'interlocutore di questa guerra ed è un grande interlocutore per l'Europa perché comunque è quello che si tiene in casa dietro grande compenso milioni di profughi siriani e irachene allora la nostra lungimiranza è minimale il cinismo è esagerato il problema che poi noi alimentiamo il nemico e così come è stato con i talebani i talebani sono stati una creazione dagli Stati Uniti per sconfiggere un governo di tipo filo sovietico in Afghanistan sono stati armati ampiamente addestrati ampiamente e poi dopo anni però sono diventati il nemico numero uno dico queste cose perché è veramente una visione di brevissimo periodo la nostra di non riuscire a intravedere i problemi che si presenteranno le minacce che si presenteranno e anzi spesso e volentieri le alimentiamo perché con Putin sicuramente è stato questo quindi non è assolutamente un pazzo e chi era lo sapevamo da tantissimo tempo anzi c'è un quadro ben preciso noi prima avevamo nominato i Balcani quindi l'ex Yugoslavia una guerra che prima quando ci siamo incontrate abbiamo detto anche dimenticata lui in questo momento noi ce lo ricordavamo ha venduto alla Serbia per quattro anni il gas a bassissimo prezzo a bassissimo prezzo di modo che lui abbia un'influenza una fortissima ingerenza proprio in quelle zone cioè questa bisogna ricordarci che non è solo una guerra economica perché lo è come tutte le guerre lo sono sempre state ma ha una fortissima base anche ideologica una fortissima base ideologica che si basa sul concetto della nuova Russia quindi di riconquistare i territori che erano stati di fatto persi e che lui invece vorrebbe rivedere vorrebbe rivederli all'interno della Russia quello che colpisce è che se ne parli poco ad esempio del discorso che lui ha fatto a settembre per la riapertura dell'anno scolastico dicendo agli alunni l'Ucraina non è neanche uno stato l'Ucraina ha sempre fatto parte della Russia ha introdotto una nuova materia che è quella di come le guerre siano necessarie ma soprattutto sta riscrivendo la storia quindi sta riabilitando lo Stalin c'è l'esercito formato da ragazzini che vanno dagli 8 ai 15 anni quindi è effettivamente una persona che potevamo capire prima insomma con chi noi avevamo a che fare però quello che io ti chiedo tanto qui ne potremmo continuare a parlare per ore e non troveremo noi sicuramente la soluzione almeno la nostra sera anche se è un argomento molto interessante io vorrei fare un passo indietro noi abbiamo detto ci sono persone che fanno scelte abbiamo parlato di chi ha scelto di fare del male vorrei parlare di chi ha scelto di fare del bene ci racconti come è nata Emergency? Allora Gino era un chirurgo è stato un chirurgo si è formato alla scuola di Vittorio Staudacker che era una scuola estremamente prestigiosa la prima scuola di chirurgia ed urgenze scuola di specialità di chirurgia ed urgenze in Italia Staudacker era considerato un genio della chirurgia naturalmente era stato negli Stati Uniti quattro anni a studiare il trapianto cuore e polmoni poi era tornato in Italia perché non voleva stare in un paese dove la sanità non era pubblica e si è è andato a lavorare per un po' in vari ospedali e poi si è candidato a partire con la cooperazione internazionale perché voleva provare a fare il suo lavoro in un posto dove in un paese a basse risorse l'idea non era tanto di capire di lavorare in un paese in guerra era proprio fare il suo lavoro in un paese dove c'erano problemi diversi e anche possibilità diverse siccome era uno a cui piacevano le sfide e si era messo questa cosa per puro caso è stato mandato in Pakistan in Pakistan la crociosa internazionale aveva un ospedale vicino a Kandar da cui arrivavano tutti i feriti l'Afghanistan era già in guerra era l'89 e lui lì incomincia a vedere i feriti di guerra e incomincia a capire quella cosa che citavi tu prima cioè che nove vittime su dieci erano civili tutti noi cresciamo con l'idea che la guerra sia una cosa da battaglia di solferino quindi con eserciti in un campo aperto si ammazzano fra di loro e tutto il resto intorno in qualche modo cambiano i confini cambiano cose così ma non viene toccato ma non è così la guerra probabilmente non l'è mai stata però sicuramente non lo è adesso e quindi decide che quello diventa il suo lavoro ho lavorato molto con la Croce Rossa internazionale poi la Croce Rossa ha cambiato un po' i suoi piani di intervento penalizzando un po' la chirurgia perché si era concentrata su altre cose e siccome Gino era un chirurgo con alcuni amici della Croce Rossa internazionale e con Teresa Sarti aveva deciso e alcuni amici di Sesso San Giovanni aveva deciso di aprire un'organizzazione sua l'idea era avere dei team che partissero per zone di conflitto e lavorassero negli ospedali che c'erano e poi ha capito che questa cosa non era tanto fattibile perché spesso gli ospedali sono distrutti perché non ci sono le attrezzature perché non riesci a gestire una sala operatoria se non gestisci tutto l'ospedale perché magari ti arrivano i pazienti sporchi o ti arrivano i pazienti quando gli rimandi in corsia non c'è nessuno che se ne occupa veramente quindi poi si creano infezioni e cose di questo genere e quindi dopo la prima intervento in Rwanda dove comunque all'inizio si sono messi a ristrutturare la sala operatoria perché non c'era il tetto per dire hanno incominciato a costruire gli ospedali e l'associazione è diventata sempre più grande c'è stato l'Iraq c'è stata la Cambogia c'è stato l'Afghanistan ci sono stati fino adesso 19 paesi è nata Emergency da io credo che Gino fosse una persona che aveva una caratteristica molto non comune cioè era una persona che sapeva desiderare anche quello che non si vede che non c'è e quindi lui si era messo in testa di fare questa cosa e ha creato un'organizzazione che ovviamente è nata con un po' di difficoltà perché non c'erano i soldi perché ovviamente lui faceva il chirurgo Teresa faceva l'insegnante Carlo suo miglior amico faceva lavorava nella tipografia del giorno quindi non c'era l'esperto di marketing o l'esperto di organizzazione che poi era portarlo in televisione la prima volta è Costanzo Maurizio Costanzo perché lui era stata una trasmissione di una televisione locale credo Tele Lombardia e uno degli autori collaborava con Costanzo gli aveva detto questo qua invitatelo e lui è andato e ha parlato delle mine e e lì c'è stata appunto una cosa che forse adesso non funzionerebbe io me lo chiedo sempre c'è stata questa acquisizione di consapevolezza delle persone che cos'erano le mine perché non lo sapevano le mine sono delle armi che sono disseminate nel terreno durano anche 30 anni colpiscono indiscriminatamente sono fatte spesso per mutilare non per uccidere perché ovviamente questo pesa molto di più non so chi di voi è stato sentire Ezio Mauro raccontava che cos'era l'Italia dopo la prima guerra mondiale con questi milioni di orfani di mutilati di persone che comunque avevano bisogno di assistenza e questo è un po' l'obiettivo di chi fa le mine e comunque insomma Gino raccontando quello che vedeva poi l'Italia diciamolo era uno dei più grandi era un grande produttore la Fiat peraltro Costanzo gli diede carta bianca nel senso che poteva parlare di quello che voleva facendo nomi e cognomi le persone si sono mobilitate e hanno mandato un milione di cartoline al Presidente della Repubblica e questa cosa ha portato la messa al bando delle mine c'è una campagna internazionale per la messa al bando all'Italia aderito quindi non si possono più progettare produrre vendere e utilizzare le mine da parte dell'Italia siccome eravamo i maggiori produttori siamo i più grandi sminatori adesso lo insegniamo a sminare è che però è molto più difficile è molto più lento è molto più costoso però questa cosa è stata una grandissima campagna che è riuscita con mezzi veramente minimali e io non mi riesco a immaginare adesso la possibilità di fare una cosa analoga nel senso che noi adesso le informazioni le abbiamo lì si trattava di persone che non avevano le informazioni e quindi scoprendo la realtà delle mine si sono mobilitati adesso a me sembra che non sia il problema dell'informazione cioè le informazioni abbiamo tantissime e forse per questo non ci focalizziamo più come forse non so se sia questo ma insomma mi sembra che adesso ad esempio sappiamo che cosa succede penso sempre alle persone che attraversano il Mediterraneo per arrivare in Europa noi sappiamo esattamente che cosa succede ma ciò nonostante non riusciamo ad avere una mobilitazione per affrontare questo problema da un punto di vista anche di chiedere delle leggi che permettano l'ingresso con canali legali oltretutto parte anche l'avventura della vostra se ne vuoi parlare no? perché insomma abbiamo citato il Mediterraneo ne approfittiamo sì abbiamo acquistato una nave questa primavera era tanto tempo che cercavamo una nave ma non avevamo i soldi perché stavamo lavorando a questo ospedale in Uganda che è un ospedale molto bello molto impegnativo in termini di risorse economiche umane e quindi quando abbiamo trovato una nave adeguata alle nostre possibilità una nave norvegese che ha circa vent'anni l'abbiamo presa adesso dovremo partire il mese prossimo è stato è un lavoro molto lungo di preparazione della nave poi non avevamo mai fatto soccorso in mare avevamo sempre lavorato sulle navi ma come team medici quindi abbiamo dovuto fare un po' questo lavoro di preparazione che non era nelle nostre competenze e adesso insomma dovremmo essere quasi pronti quanto è difficile la gestione perché credo che insomma da un certo punto di vista la coperta sia sempre un po' corta dai la sensazione quando parli no? cioè l'ospedale in Uganda però insomma le risorse economiche erano poche quindi un passo alla volta però leggendo il libro lui era poco un po' per un passo alla volta quindi credo che insomma quanto è difficile gestire emergency alla fine allora Gino era uno che noi dicevamo buttava il cuore oltre all'ostacolo perché lui diceva i soldi sono l'ultimo dei problemi e noi dicevamo insomma non è vero però poi aveva ragione spesso perché abbiamo fatto un centro di cardiochirurgia il primo centro in Africa completamente gratuito l'abbiamo fatto e abbiamo detto però d'anno prossimo dobbiamo trovare 7 milioni in più che avevamo un budget di 20 quindi 7 22 forse 7 avevano un peso e l'anno dopo fecero il 5 per 1000 e noi ricevevamo poco più della cifra che costava l'ospedale quindi abbiamo detto vabbè qua Gino era un grande scommettitore e gli era andata bene la coperta è corta è cortissima perché i bisogni sono tantissimi anzi i nostri volontari sono fuori se vi capita di passare dal banchetto troverete un po' di materiale informativo se deciderete di aiutarci ne abbiamo bisogno però è cortissima perché i bisogni sono sterminati quando noi facciamo i budget poi ci accapigliamo fra di noi perché soldi non bastano mai e quindi tu perché puoi tagliare di lì e tu puoi raccogliere più di là eccetera eccetera ma il problema è che i bisogni sono enormi e un'associazione non può fare un'associazione che in Italia è grossa ma nel mondo è piccolissima non può fare molto però è difficile vedere i bisogni cioè vedere le cose noi abbiamo avuto un grande dibattito interno sulla raccolta dei fondi per capire come mantenere una raccolta etica ma andare incontro al fatto di voler fare più progetti perché fare più progetti non è mettere la bandierina sono persone in più che ovviamente curi e questa cosa è veramente pesante perché tu ti rendi conto che dove ti giri c'è bisogno noi interveniamo anche in Italia con dei progetti molto più piccoli di quelli che abbiamo all'estero perché fortunatamente noi abbiamo comunque un sistema sanitario con un sacco di problemi ma che esiste e però anche in Italia conosciamo tante situazioni per cui ci sembra sempre di poter fare un po' di più e alla fine non si può fare tutto quindi la cosa che si dovrebbe fare è cercare di evitare la creazione di nuovi bisogni cioè la guerra quando prima tu parlavi delle risorse spese noi se con la cifra avessimo spese in aiuti per l'Afghanistan noi avremmo raggiunto tutti gli obiettivi che ci ponevamo con la guerra perché avremmo creato un sistema sanitario accessibile a tutti avremmo creato la possibilità di lavori dignitosi di istruzione se tu dai le persone a qualcosa da perdere poi ci pensano due volte a fare la guerra ma Gino diceva sempre la guerra l'unica profilassi della guerra è il rispetto dei diritti umani ma è vero perché se tu non hai da mangiare se tu ti senti umiliato se tu non hai comunque un futuro cerchi e cerchi per la via più breve che è quella della violenza se invece tu hai garantiti i tuoi diritti fondamentali ti senti riconosciuto come essere umano puoi fare dei pensieri diversi puoi avere dei comportamenti diversi perché hai una prospettiva sul futuro e io penso che questa cosa noi la possiamo fare perché quando noi siamo tacciati di essere ingenui da questo punto di vista invece a me sembra proprio la palistiano se tu quei soldi che spendi per la guerra li spendessi per rispondere ai bisogni delle persone ma ne basterebbero anche molti meno di quelli che noi spendiamo per la guerra e potresti rispondere ieri no forse non so se era l'incontro di ieri che il giudice della Corte Penale Internazionale citava il Costa Rica il Costa Rica ha rinunciato negli anni 40 all'esercito a un reddito pro capite quattro volte inferiore a quello degli Stati Uniti ma un'aspettativa di vita più lunga dei suoi abitanti perché quei soldi non li spende nell'esercito li spende in istruzione pubblica in stato sociale sanità e cose di questo genere allora io penso che ci sia un tema trasversale nel libro di Gino che è proprio quello della scelta non è che questa che noi abbiamo imboccato sia l'unica strada possibile ne esistono altre ma noi abbiamo smesso di pensare a che strada scegliere abbiamo smesso di pensare agli obiettivi che abbiamo Sterna che era il primo marito di Anna Arendt diceva che noi abbiamo adesso sintetizzo un po' brutalmente però abbiamo lavorato tantissimo sui nostri mezzi ma non più lavoriamo sui fini non ci siamo più posti noi ci poniamo sempre l'obiettivo di progredire negli strumenti ma a che cosa servono questi strumenti non li abbiamo più rimessi in discussione non li mettiamo più in discussione e noi dovremmo farlo perché abbiamo una crisi climatica spaventosa e lo vediamo abbiamo il rischio atomico abbiamo guerre in cento paesi del mondo poi chi più meno violente chi più o meno rappresentata ma comunque questi sono i numeri abbiamo un problema di impoverimento e di una forbice sociale spaventosa anche nel nostro paese allora avventerà nel 2023 perché andiamo in piena recessione sarà ancora peggio allora quanti campanelli d'allarme ci devono suonare prima che pensiamo che forse abbiamo da rivedere il nostro modello di mondo la nostra idea dei fini per l'appunto io penso ad esempio che il modello di sviluppo americano abbia avuto dei grandissimi vantaggi per buona parte del mondo è solo che forse adesso certe cose non funzionano più forse adesso il liberismo estremo in cui siamo il fatto che hai delle classi di lavoratori che sono di fatto schiavi anche in paesi come il nostro penso ai riders penso ai lavoratori agricoli penso ai precari tutto questo è frutto di una degenerazione probabilmente che però è stato frutto di una nostra scelta non è perché non si può fare altrimenti è perché noi abbiamo scelto di prendere questa strada come dicevi prima voi avete dei progetti anche in Italia scoppia il covid-19 me lo ricordo benissimo perché io ero su a Codogno poi in Milano e quindi inizio a raccontare la pandemia e tra le persone che decidono di intervenire e dare una mano ci siete proprio voi c'è Emergency che si impegna si impegna anche perché poi diciamolo questa è una cosa che va detta le organizzazioni che lavorano all'estero lavorano anche in contesti difficili sono coloro che sanno fare meglio ad esempio i percorsi puliti e sporchi perché noi negli ospedali non li avevamo più aperti e chiusi a parentesi si è visto infatti si è visto a un certo punto questa è la domanda voi c'è un un appunto in cui Gino Strada scrive il virus non è democratico un conto è farsi una quarantena in un appartamento di 100 metri quadri un conto è essere un senza tetto che la sera va in un dormitorio e usa un bagno comune quindi vi siete impegnati come Emergency a dare una mano appunto agli ultimi ma la domanda non è tanto questa la domanda è tu a un certo punto prima hai detto noi guardiamo abbiamo una visione molto corta e quello che ti chiedo è se siamo stati in grado di avere una visione cioè di capire che cosa è stato il covid per noi se è cambiato qualcosa all'interno della sanità italiana o se ancora non c'è una visione in realtà cioè se non è cambiato nulla io è questo quello che ti chiedo noi non abbiamo cambiato niente perché avremmo dovuto dopo la battosta che abbiamo preso con il covid io sono lombarda e parlo da lombarda la Lombardia ha avuto 40.000 morti se fosse stato un paese sarebbe stato il paese con più morti in assoluto abbiamo avuto così tanti morti perché non esisteva più la sanità territoriale che è stata smalentellata per fare grandi perché c'era l'idea che la sanità fossero solo i centri di eccellenza dei grandi ospedali che ci sono però abbiamo avuto ad esempio all'inizio un sacco di strutture private non si capiva se le strutture private avrebbero potuto trasformare reparti in reparti covid ad esempio non avevamo comunque i medici non avevamo gli infermieri non avevamo i respiratori non avevamo i letti di terapia intensiva e tutte queste cose davanti a una cosa del genere uno pensa le persone si saranno rese conto con 40.000 morti io personalmente conosco delle persone che sono morte conoscevo delle persone che sono morte e quando una cosa ti tocca così da vicino pensi che poi ci sia un'attivazione l'attivazione non c'è stata la Moratti forse un mese fa più o meno siccome non ci sono medici di base oggi c'è la presentazione del libro di Cire e lui ad esempio non ha un medico di base in questo momento a Milano non esistono i medici di base vanno in pensione ma non ci sono sostituti e quindi la Moratti proponeva il vice medico che è un infermiere che lei chiama vice medico che è un infermiere con 300 ore di formazione aggiuntiva e il vice infermiere è un os con non mi ricordo quante ore di formazione aggiuntiva non è la cosa in sé che può fare anche ridere è l'idea che tu non affronti il tema della salute come diritto perché è poi l'idea che poi alla fine chi può va dallo specialista il medico di base lo salti anche ti serve per fare le ricette in Lombardia è così cioè si fa tutto dallo specialista lo specialista di solito è privato perché dal pubblico comunque tempi di attesa sono molto lunghi dopo la matosa che c'è stata col covid serviva un ripensamento complessivo del sistema della sanità una sanità nazionale una sanità nazionale non regionale noi abbiamo delle regioni che hanno dovuto dichiarare la zona rossa non penso la Calabria per ma anche il Molise per il numero dei contagi ma perché non avevano le strutture adeguate in termini di numeri di medici eletti in caso di aumento dei contagi quindi non avevano i picchi ma erano le zone rosse perché comunque se ci fosse stato il picco non avrebbero avuto le strutture questo ripensamento non c'è stato né sulla regionalità né sulla privatizzazione della sanità né sui numeri chiusi nell'università da nessuna parte questo perché perché si pensa che comunque il sistema nostro che è un sistema misto garantisca l'accesso alla salute a quelli che comunque tendenzialmente stanno nella fascia media della società quelli che sono i più vulnerabili non li teniamo più in conto quindi quelli che non hanno un'assicurazione privata quelli per cui pagare 50 euro di ticket è un problema quelli che hanno dei bisogni poi parlo sempre della Lombardia la Lombardia se è un'urgenza va benissimo nel senso che comunque non è il problema dell'urgenza è il problema della chirurgia elettiva delle visite specialistiche di cose di questo genere perché tutto questo poi alla fine uno mette in conto che deve spendere qualche soldo in più se lo fa privato e lo fa nel giro di una settimana questa cosa che sta succedendo forse Chomsky che parla del paradosso della rana cioè la rana che sta nella pozza d'acqua e l'acqua diventa sempre più tiepita e alla fine si trova anche bene e quando si accorge che una pentola col fuoco acceso ormai è bollita e noi stiamo facendo un po' quella scena lì perché quando abbiamo cominciato a perdere la sanità nazionale abbiamo cominciato a perdere la gratuità perché i ticket comunque tutto sommato tollerabili poi l'inserimento dell'intramenia e poi le convenzioni con i privati e poi arriveremo al fatto che l'assicurazione comunque ti aiuta perché sai che non finirei mai come l'Afghanistan non finirei mai a doverti portare i farmaci in ospedale non finirei mai a indebitare la famiglia per fare delle cose però sai benissimo che un tot della tua spesa sanitaria sarà tua non tua perché la paghi con le tasse ma tua perché la devi pagare dal tuo reddito da una parte la sanità italiana e ci tenevo a fare questo passaggio col covid-19 a parte perché comunque è stato uno degli eventi epocali che purtroppo hanno insomma cambiato la vita di tutti noi due perché voi siete stati parte attiva però avete sempre operato i scacchieri complicati in guerre io all'interno degli ospedali con i feriti di guerra ci sono stati li ho visti la cosa che più ti traumatizza a volte sono le loro storie non solo vedere le ferite ma anche capire come quelle ferite sono arrivate sono storie magari di persone colpite mentre cucinavano mentre parlavano con il papà io ti faccio questa domanda e poi chiudiamo anche perché non so che ore siano o meno ti volevo chiedere quanto è difficile operare in certe zone cioè quanto è difficile non solo come medico a livello di strumentazione a un certo punto racconta che addirittura operavano con le torce ma anche quanto sia difficile umanamente far proprie le storie di queste persone che tu curi e che poi insomma ti accompagnano per un tratto della tua vita anche che sia di pochi giorni però ti accompagnano io penso che un medico abituato a vedere la sofferenza delle persone però sia estremamente difficile vedere che quella sofferenza è una sofferenza che avrebbe potuto non esserci cioè che è stata creata e non è capitata per caso per sfortuna per destino e quindi credo che questo sia molto difficile credo che sia però difficile intervenire come associazione umanitaria sempre di più nei contesti in guerra noi nella nostra esperienza abbiamo visto che o tu sei in un paese già da prima ad esempio l'Afghanistan quelli che volevano venire a lavorare in Afghanistan per aiutare la popolazione hanno fatto molta fatica ad arrivare a conflitto iniziato noi in Yemen abbiamo fatto molta fatica perché gli ospedali sono diventati in parte degli obiettivi quando noi parliamo del fatto che la guerra è fuori controllo cioè che quando inizia una guerra non puoi più controllarla noi abbiamo sempre considerato gli ospedali delle zone franche e tutelate dal diritto internazionale e invece non è più così cioè la Siria in particolare lo Yemen ci hanno insegnato che gli ospedali possono essere degli obiettivi e quindi è difficile per i medici avere a che fare con delle persone che soffrono perché qualcun altro gli ha sparato o ha messo una mina o le ha bombardati ma per le organizzazioni è sempre più difficile riuscire ad entrare perché i diritti e anche qui è questo discorso del vedere come ci stiamo trasformando anche dei ritti che erano considerati anche qui inviolabili come il diritto della popolazione civile a essere curata il diritto dei feriti a essere curati e la popolazione civile a non essere colpita in realtà sono diventati dei target come tutti gli altri e questo io credo che sia un po' il segno dei tempi questa valanga che sta travolgendo tutte le conquiste che noi poi conquiste parlando appunto di diritto umanitario ma tutti i capi saldi paletti che avevamo stanno stanno saltando la sanità prima parlavamo della sanità pubblica la sanità pubblica nel 78 è stata una grandissima conquista e a poco poco la stiamo smantellando e così stiamo facendo per tante altre cose io non so se avete domande lo chiedo una domanda un appunto vuole un microfono però perché sennò non la sentono magari no no ma più che altro per far sentire approfitto del tema di questo ultimo incontro che appunto era quello della pace per dire che anche a Lecce in risposta all'invito di Europe for Peace si è formato un comitato per la pace a cui aderiscono tantissime associazioni tra cui anche Emergency e allora per cui si chiede la pace subito il disarmo in Ucraina ma in tutte le altre parti del mondo per questo è stata organizzata una manifestazione per sabato prossimo e io approfitto appunto di questo palcoscenico per invitare e per diffondere la notizia sabato prossimo a Lecce ci sarà una manifestazione per la pace che partirà da Porta Napoli alle nove e mezza siete tutte e tutti invitati e anche a comunicarlo e a coinvolgere quanta più gente possibile grazie io ringrazio Simonetta Gola ringrazio voi che siete rimasti con noi fino alle undici mi raccomando Gino Strada una persona alla volta uno stupendo libro scritto da una persona straordinaria sicuramente grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti